Allora iniziamo dicendo che la donna ha molto più tessuto erettile dell'uomo. Mentre l'uomo ha tutto il suo tessuto erettile concentrato nella parte genitale, la donna al contrario ce l'ha in tutto il corpo. Proprio così tutta la sua pelle è un tessuto erettile e di fatto la donna può provare orgasmi in ogni parte del corpo se stimolata nel giusto modo. Infatti ci sono alcuni segnali che indicano i livelli di eccitazione di una donna, come ad esempio i capezzoli che diventano più turgidi, le labbra che incominciano a gonfiarsi più del normale, o addirittura le orecchie che diventano più dure. Per questo la donna ha una grande potenza energetica che è di gran lunga superiore a quella dell'uomo. E la donna può raggiungere diversi tipi di orgasmi, ad esempio stimolando il suo clitoride si arriva ad avere un orgasmo clitorideo, mentre invece con una stimolazione interna può arrivare ad avere un orgasmo vaginale, nel quale entra in connessione anche il suo punto G. Qui posso dirti con estrema sicurezza che il punto G esiste, ma per fare in modo che si manifesti la donna deve essere profondamente connessa. E poi arriviamo all'ultimo tipo di orgasmo che una donna può provare, quello più profondo, l'orgasmo della cervix. Ma una donna per provare questo tipo di orgasmo deve entrare davvero in una connessione importante con il partner. Solo in quel momento sarà capace di rilassarsi e di connettere la sua cervix, con il cuore. Come vedi sono molti gli stimoli che possiamo donare ad una donna, ma la cosa più importante è quella di prendersi del tempo, rilassarsi e farsi avvolgere dal profondo atto sessuale. Quindi non premere sull'acceleratore, non è una gara, goditi quel momento.